E di un arresto e 14 denunce il bilancio di un vasto controllo del territorio gelese operato dagli agenti del commissariato di polizia assieme a quattro pattuglie del nucleo prevenzione crimine di Palermo. L'arrestato si chiama Rosario Scattarella, 60 anni, napoletano. L'uomo deve scontare un residuo di pena ai domiciliari di un mese e 29 giorni per avere commesso a Gela ed in altri luoghi nel 2000 il reato di riciclaggio continuato in concorso. Il provvedimento è stato messo dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Caltanissetta. Un 17enne è stato segnalato per resistenza pubblico ufficiale in concorso con altro e porto ingiustificato di attrezzi atti allo scasso. Guai anche per un 22enne ed un 51enne denunciati per minacce e lesioni. Ad un uomo di 31 anni è stata sospesa tempo indeterminato la patente. Per lesioni e minacce sono state segnalate altre 5 persone, mentre un uomo di 62 anni è stato denunciato per furto di energia elettrica. Un 27enne è stato segnalato per uso di atto falso. E' sempre la polizia proceduto al controllo di 181 persone di 52 veicoli, elevando 3 contestazioni al codice della strada ed eseguendo 5 perquisizioni sul posto. Passate ai Regi X le posizioni di 10 persone sottoposte a regime di misure cautelari. Rinvenuti due veicoli rubati e i carabinieri del nucleo investigativo e della stazione di Riesi hanno sottoposto a controllo gli occupanti di un'auto ed un furgone che stavano attendendo l'apertura di una pesa nel centro abitato riesino. Il controllo ha permesso di appurare che il furgone trasportava circa 17 quintali di cavo in rame che tecnici Enel interpellati hanno riconosciuto quale cavo treccia con sezione da 25 mm utilizzato per la rete elettrica nazionale. Cinque persone fermate e recluse nel carcere di Caltanissetta. Si tratta di tre cittadini rumeni e di due palermitani. Devono rispondere di ricettazione. Grazie. Grazie.